bella cacchina ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video oggi vi insegnerò esattamente a suonare in piano iniziamo subitissima dal fanhead di non mi ricordo il nome allora voi dovete fare così due volte tre volte questo poi fate una volta questo poi fate questo e venne fuori questo e poi fate tre volte questo una volta questo poi fate questo tre volte una volta questo ancora fate diciamo così poi fate questo questo era il tutorial bella